Diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione contro il rischio incendi perché la migliore prevenzione è la cura del monte e dei suoi boschi. La Toscana ha aderito alla giornata mondiale di prevenzione degli incendi nei boschi in cinque località, nelle province di Pisa e Grosseto dove sono state organizzate attività di gruppo aperte ai cittadini con l'obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione degli incendi boschili. Questa iniziativa vuole rappresentare un seme per informare le persone che abitano la montagna, il bosco o comunque nei rintorni del bosco sui rischi che possono correre in caso di incendio boschivo e sulle modalità che hanno, sulle potenzialità che possono avere per proteggere se stessi da soli praticamente, quindi il significato di autoprotezione. Un modo per divulgare il concetto di difesa attiva della comunità specie dove il bosco è in stretto contatto con le abitazioni. Attraverso le informazioni dell'organizzazione antincendi i residenti hanno potuto imparare metodi per poter attivarsi correttamente e aumentare così la loro sicurezza. I cittadini hanno reagito bene non ci aspettavamo un numero di persone altissimo ma ci aspettavamo un numero delle persone interessate, interessate a quello che noi avevamo bisogno di dire e soprattutto interessate perché hanno dell'interesse anche diretto nel monte e nel bosco. L'iniziativa è organizzata ogni anno dall'associazione statunitense National Fire Protection. Agli appuntamenti di Castiglione della Pescaia, Principina Mare, Calci, San Giuliano Terme e Vico Pisano hanno operato a stretto contatto con i cittadini il personale di Regione Toscana, Comuni, Unione dei Comuni e Associazione di Volontariato.